Buonasera, questa sera iniziamo per noi questo, parlo in questo momento con i ragazzi che devono ricevere la confermazione, con i genitori, proprio questo percorso ravvicinato all'incontro con il Signore nella confermazione e benvenuti anche a tutti e tutti gli altri che sono venuti invece perché sapevano della conferenza sul Paese di Gesù. Ecco, ha un nesso, ha un legale il nostro trovarci qui questa sera perché, cari ragazzi, voi con i vostri catechisti in maniera particolare state trattando in questo ultimo tempo, in questo ultimo periodo, il dono dello Spirito Santo e anche le comunità paoline, giovannee e quello che opera lo Spirito Santo nella nostra vita. E noi vediamo, troviamo in Padre Puglisi un esempio di quello che ha fatto nella sua vita e lo Spirito Santo. E dico, questa è già una motivazione per me puntuale, importante, ecco, della vostra presenza questa sera. Un'altra motivazione è che non c'è la parrocchia che fa il suo percorso e i ragazzi della Cresi, ma le famiglie, oppure i gruppi, i miei, che fanno parte della parrocchia, che fanno il loro percorso. Ma la strada è luna. In questo mese, in maniera particolare, stiamo vivendo la riflessione sul Padre Puglisi e non può che aiutarci questo, perché ci aiuta ad essere forti nella nostra vocazione, ci aiuta ad essere forti nel fare diventare il Vangelo e scelte della vita, così come ha vissuto Padre Puglisi. Ci aiuta a vivere nella storia, non io vivo la fede, la fede è una cosa, la vita è un'altra cosa. E allora, siccome siamo dentro questo dono che il Signore ci fa a vivere in questa famiglia pallocchiale, in questa comunità pallocchiale, trattando il tema di Padre Puglisi, noi siamo chiamati a, quantomeno, a mettere dentro di noi la domanda. Padre Puglisi ha vissuto la sua vita cristiana pienamente. Io la sto vivendo, la mia vita cristiana pienamente. E faccio operare per me lo Spirito Santo. La mia è una introduzione che io vorrebbero dare anche la chiave per capire perché siamo qui questa sera. Poi dopo darò ai presivanti qualche notizia, qualche riferimento a successivi incontri che a me. Questa sera fornò il dono Massimo Naro, sacerdote del plero di Caltanissetta e insegnante in facoltà teologica di Sicilia, a Palermo. È stato insegnante anche di alcuni, ecco, che della nostra comunità, che hanno fatto questi studi teologici o che li stanno. Questa sera ci aiuterà a capire un pochettino meglio il contesto sociale ed ecclesiale dentro il quale avvenuto il mattino di Puglisi. Io vi chiedo, ecco, non lo facciamo mai, ma proprio un piccolo impegno di attenzione che ci farà sicuramente bene. Meglio di andare a dire di stare davanti in televisore a guardare il telaromanzo o a cercare la trasmissione dove si vincono, forse, un sacco di premi. Questa sera riflettiamo su una persona, un sacerdote della nostra diocesi che il Signore ci dona come modello, come esempio, perché come Gesù, mite, uve, di cuore ha dato la sua vita per noi. Allora, facciamo attenzione. L'incontro, lo diciamo fino ad ora, non dura tre ore, dura tre ore meno un quarto. No, sto scherzando. Siamo nell'ordine di un'oretta. Poi ci sarà anche un piccolo spazio per qualche domanda, qualche intervento, che chiederemo a Tommassi, oppure, ecco, la riflessione. Tu, che mentre ascolti nel tuo cuore e nella tua mente, ecco, la parola che ci viene, i dati che ci vengono consegnati, dentro di noi hanno un effetto. E magari ci sentiamo di dire, mi ha colpito questa parola, questo passaggio, lo trovo arricchendo, oppure mi fa pensare, mi fa riflettere, o mi fa nascere una domanda. Va bene? Quindi grazie a voi, grazie a tuo Massimo per aver accolto tra i suoi innumerevoli, e poi vorrei aggiungere pure superlativo i simili impegni, ecco, di essere qui con noi stasera. Grazie, grazie anche da parte mia. Don Giuseppe per il suo invito e a voi per la vostra accoglienza. Se non altro, ho fatto stesso di essere presenti qui insieme stasera. e per me Caccamo è una piacevolissima scoperta. È la finissima volta che vengo qui nel posto della vostra cittadina, nel posto di un paese, prima non ero mai venuto e quindi non lo conoscevo. Difatti ancora non lo conosco, sono qui soltanto da mezz'orgo, sono stato praticamente sul sacro a guardare un po' il panorama di qui dentro. Però intuisco il carico enorme di storia che fa l'affondamento a questa vostra comunità e intuisco anche il portato di bellezza, quindi l'eredità di bellezza che questa nostra storia si porta dentro e consegna a voi, di cui voi siete appunto i reni. Dovete considerare di essere fortunati di vivere in un posto così. Direi, oltre che insieme, tra di voi o con Don Giuseppe come parlo, direi in mezzo a queste cose, possiamo anche chiamarle in mezzo a queste opere d'arte davvero fortunati, dovete considerare che le cose di qui sono così, esse direi in abbondanza, in abbondanza, l'abbondanza è altrove sono considerate a rarità, infatti esposte, custodite ai musei, per esempio ho visto nella vostra la quella dell'eugaristia del Tamponacolo, le tele così, quattro, cinque, quanta sono, di Vito d'Anna, ho visto che l'ambiente è agginesco, come anche credo da quest'altra parte dell'altare, poi ho visto una tela grande di Mattias Storio, una cosa storiana, il pittore del XVII secolo, che è famosissimo, uno di quei famigli, di quei violandesi che nel 1600 vennero in Sicilia, poi si è accasati in Sicilia, mi dicevano figli e morirono in Sicilia, forse anche lui, non so, a casa di essenza abbiamo, abbiamo un altro, abbiamo un bel compo, che ha lavorato anche a Pavela, credo pure nella chiesa che fa la caffè la maggiore del seminario, e a casa di essenza ha affrescato, sì, anche qui, certo, ha affrescato la cattedrale di Santa di Senta, come ha affrescato anche il domo di Ema, persone di finissimo livello, ma anche se non è vero, rispetto al Pornemann, se credo sia forse più ragnato, pittore di Ema, lui era invece un grande, anche escatologo, e davvero per me è una bella cosa essere qui, sono qui per parlare di doppio e non pubblici, non essendo un esperto di doppio e non pubblici, perché è vero che ho dovuto fare i conti con lui ormai più volte, da che offro il mio ministero, qui nella diocese di Palermo, nella città di Palermo, questa è una facoltà teologica, ho parlato di un bambino, anche a Brancaccio, faccio qualche ricorrenza del suo assassino e del suo martirio, tuttavia ho sempre guardato un'estrema, grande ammirazione, ma sempre come una meta sovraeccedente rispetto alle mie misure, non dico inarrivabile, ma certamente molto oltre, anche per il fatto di non essere suo confratello, di non essere del suo stesso presbitello, del suo stesso clero, perché invece in realtà il bambino appunto è il clero stesso, il presbitello stesso, per esempio del vostro parco, del nostro servito al Verone, il clero della diocese di Palermo, io sono domanda di oltre, e quindi ho sempre, ogni volta che ho la possibilità di parlare, di dover parlare di un bambino, a certo, per avvicinarmi a me a volta, ulteriormente a lui, per tornare un po' a comportarmi con lui, con i suoi spiriti, o con la sua memoria biografica, soprattutto con la sua testimonianza, e questa, nella testimonianza, è una cosa importantissima, in greco testimonianza si dice con la stessa parola con cui noi oggi diciamo martirio, si dice martirio, non pure, è precisamente martiria, testimonianza, è la vocazione a cui il Signore richiama nella vostra prossima confermazione, quando sarà celebrata la testa, il 26 giugno prossimo, voi sarete investiti, o sarete attesi partecipi, di questa attesa, attesa, che, Don Piero Puglisi, come altri santi, altre personalità spirituali, ha portato a compimento della sua esistenza verente, direi in maniera esemplare, non per merito suo, sempre e comunque per grazia del Signore, per dono di Dio, così come a chi è, speriamo che avvenga anche in noi, man mano che sviluppiamo i nostri passi, il nostro cammino, promediamo, sia anagraficamente, crescendo il nostro essere umano, sia anche nei lunghi sentieri della fede, crescendo anche come dicevoli di Cristo, come battezzati, come cristiani. e il tema che mi è stato assegnato è appunto questo del del contesto sociale direi epocale in cui si sviluppa la vicenda di Don Piero Puglisi ed è un tema direi molto bello, interessante, ma anche molto impegnativo, sia perché ancora una volta introduce a ricordare un saluto della statura di Don Piero Puglisi, statura alta, sia perché esige di collocare il ricordo in una conduce direi complessa, complessa più che basta temporalmente, complessa dal punto di vista qualitativo, più che grande dal punto di vista quantitativo, e di partito intendo qui interpretare il contesto dentro cui ricollocare la figura di Don Piero Puglisi non solo in senso territoriale, adesso io in contesto palearitale della biologica di Faneco, ma piuttosto anche e soprattutto in senso temporale e in ritiva in senso storico. che vuol dire considerare il primale di passaggio tra i due elementi importantissimi. Uno si colloca ancora nella seconda metà dell'Ottocento, un altro invece è ormai all'inizio della seconda metà dell'Ottocento, il concilio va di l'anno primo e il concilio va di l'anno secondo, fino ora perché scelgo questi due vogli dentro cui colloco la ricetta e tutta la storia di formazione, di sviluppo spirituale, di dubbi non politici, un tempo in cui però ci sono anche altri eventi non necessariamente e non esclusivamente di carattere ecclesiale o di tipo religioso, eventi come per esempio il dramma della seconda guerra mondiale e eventi di altro mito come i fatti possiamo dire di Donatanea o più precisamente di Massia con cui la Sicilia tutta quanta è il palermo proprio nel segmento temporale in cui Don Pino è il protagonista della sua propria ricetta ha un rivoluzione coordinante a terribile c'è l'escalation di fatti criminosi proprio nel tempo che abbraccia la vicenda geografica e anche la testimonianza materiale di Don Pino Puglisi dunque tanta carne ancora due premesse voglio fare prima di arrivare a parlare esplicitamente di Don Pino e della sua testimonianza una premessa generale e l'altra legge particolare una premessa cioè che può valere anche per Don Pino Puglisi ma che in realtà direi vale per tante altre personalità spirituali e poi ancora una premessa che invece vale il proprio per Don Pino Puglisi la prima premessa per riposumire e raccontare direi attendibilmente la vicenda di una personalità spirituale la storia di uno spirituale bisogna prendersi carico di una particolare crei di ginnastica bisogna cercare di fare una particolare ginnastica bisogna cercare cioè di andare a rinforciare i motivi di continuità di una vicenda spirituale con tutto il contesto in cui essa si colloca ma pure andare a scovare i motivi di discontinuità di questa stessa vicenda rispetto al contesto in cui essa si cala di aventica tra continuità e discontinuità continuità che cosa voglio dire quando parlo di continuità voglio parlare di una stretta connessione di evitare influsso reciproco interdipendenza tra l'individuo e la media sociale a cui questo fa riferimento stretto legale tra il singolo credente e la comunità inglesiale di cui è membro vedremo anche per don di ogni si vale questa legge della continuità non è un marziano non è uno che si erge con totale straordinarietà rispetto al posto inquiline o alle persone conquista è come loro è uno di loro partecipa nella loro storia nella loro vita persino quotidiana nel segno appunto della continuità ma insieme alla continuità anche una certa discontività cioè la capacità in obbedienza a Dio di eccellere rispetto a quel benesimo ambiente che mi permette la capacità in obbedienza a Dio di emergere in e da quella stessa comunità di appartenenza la continuità sovraeccede rispetto alla discontività cioè ci sono più motivi di continuità che non di eccellenza che non di discontività almeno dal punto di vista quantitativo la discontività stesso si esprime in una semplice potremmo dire sfumatura altra che cos'è l'eccellenza di uno spirituale rispetto alla comunità o al popolo a cui appartiene dico che è una semplice sfumatura che tuttavia imprime una nuova coloritoria all'esistenza di quella personalità spirituale il contesto della sua formazione umana e cristiana per esempio le sue letture le sue devozioni il suo impegno sociale e ecclesiale risultano gli stessi di quelli di quelli di tanti altri cristiani suoi contemporanei e suoi contemporanei ma nella sua licenza si riusciano registrare anche un annunque di ordinare che chiaramente l'apparenza ha un coinvolto radicale con Dio in tutto è uguale agli altri ma c'è qualcosa che all'improvviso emerge e che manifesta apparenza la sua amicizia radicale la sua viginalizza radicale con il signore questo è un dato tipico dei cristiani in quanto cristiani già un documento antico del primitivo cristianesimo che risale alla fine del secondo secolo dopo Cristo si chiama da parte degli studiose chiamato lo scritto agliognito la lettera agliognito descrive i primi cristiani proprio in questi tempi essi sono come tutti gli altri uomini tutte le altre donne della loro ipoca vivono insieme con gli altri nella stessa città nella stessa polis vivono alla loro stessa maniera vestendosi come loro condividendo le loro consuetudini il loro modo di mangiare persino i loro linguaggi e tuttavia all'improvviso dimostrano di spiccare in qualche cosa di altro o di qualche cosa di nuovo rispetto a tutti gli altri così è per gli spirituali cioè per quelli che veramente sono cristiani e così dovrebbe essere anche per noi in definitiva io credo che perdono il Signore così è anche per noi noi siamo legati tra di noi per piccoli di continuità recite ma c'è un gruppo di noi in forza della sua originalità che spicca rispetto agli altri per un motivo o per l'altro in una occasione o nell'altra ma è un'esperienza che prima o poi tutti facciamo o un piatto di cui prima o poi ci accorgiamo dell'esistenza di coloro con cui abbiamo a che fare di coloro che stanno con noi quando lo spirituale la personalità svega è addirittura un martire allora l'elemento di discodività può risultare addirittura quasi puntiforme a volte può risolversi persino in un uizzo inaspettato di parte il martirio e il decine del senso cristiano è potremmo dire soltanto è semplicemente il culmine di un'esistenza credente vissuta come quotidiana testimonianza del Vangelo questo è il martirio il martirio non è una cosa preparata programmata addirittura cercata voluta no è un fatto improvviso la vita di chi lo sperimenta nell'esistenza del Vangelo appunto il martirio è talvolta persino una questione di atti è questione di un momento sopraggiunge all'improvviso se non del tutto inaspettato certamente non masochisticamente voluto non eroicamente giocchiato anzi come si leggono alcuni anni del martirio subito dai cristiani nei primi secoli della storia della presa spesso il martirio accade nonostante i dettativi e persino disponsi per evitarlo c'è per esempio la biografia scritta da un diacomo di un certo ponzo di Sant'Anazio del quarto secolo di Sant'Anazio Sant'Anazio scusate di Sant'Anazio che dice come questo questo best di Sant'Anazio abbia fatto di tutto per evitare il martirio per poi alla fine però accettarlo perché cercavano di evitare il martirio perché sapevano che i datini potevano essere più idili alla loro comunità dichiara il martirio non è un eroe che pensa di essere utile con la sua vita è un uomo concreto realista che sa che può essere utile agli altri intanto con il suo lavoro se può evitare di uscire tenta di riuscirci alla fine si consiglia al sicuro così anche per esempio negli atti che raccontano il partiglio di Cicchiano Vescovo di Cattà Cipriano scappò dal suo martirio nel terzo secolo almeno tre o quattro volte sempre scappando alla fine almeno quando fu inevitabile si consegnò come agnello vinte come Cristo Gesù già sul campato sul popolo al martirio alla parte il fatto è che il martirio cristiano è resa non meno che resistenza questo è un atto di resa un arrendersi non meno che un atto di resistenza vale a dire il martirio cristiano consegna di sé a Dio per il bene del tesorello e dei fratelli più deboli e più esposti alla giustizia anche a costo di cadere per questo nelle mani dei fisici contro cui si è scelto di combattere sì ma senza violenza con le armi della ragionevolezza oltre che della fede della denuncia comitata dell'annuncio poverico del dialogo fiducioso è sempre stato così e ancora oggi è così è una significativa di prova proprio il martirio del beato Pino Chiesi ucciso a spavento come sappiamo tutti da due killer mafiosi davanti alla porta di casa sua la sera del suo cinquantasellesimo compleanno il 15 settembre del 1993 pure in questo caso pure nel caso del martirio di Pino Chiesi il martirio è stato questione di un attimo anche se quest'ultimo attimo è stato coerentissimo a tutta una esistenza credente trascorsa a ragionare ad argomentare ad annunciare a dialogare non si può dire che Don Puglisi sia andato con sacco orrore incontro alla sua morte violenta eppure Don Puglisi sorridente di fronte ai suoi assassini mentre sussurrava che li stava scattando quella sua morte violenta non l'ha considerata come una disgrazia non se l'è cercata ma non l'ha evitata l'ha sperimentata a piezo con tutto il suo coraggio un coraggio tanto gigantesco quanto più paragonato alla realtà dei sitati da pagini a gire solo orchestrando l'acquadro facendo leva sul fattore sorpresa proteggendosi nel branco dissimulando sino all'ultimo le loro reali intenzioni sapete come è avvenuto quell'assassinio e insieme quel martinio questi volevano simulare uno scintur a rapida volevano farmi credere che erano venuti soltanto per privarmi il morsello il portafoglio e invece subito dopo smascherati dallo stesso corpino l'uncino smascherati dal sorriso di l'uncino dice me l'aspettavano lo sappiamo la seconda premessa Don Pino muore a brancacia e questo è un fatto importantissimo direi che costituisce l'elemento di discontinuità che conferisce qualità nuova a tutta la sua vicinità è un fatto straordinario che la consegna per sempre alla nostra memoria inglesiana se non fosse morto di abbrancaccio ucciso dalla mafia oggi noi non parleremo di lui non solo perché forse sarebbe ancora vivo ovviamente un po' più anziano di allora ma certamente ancora tra di noi no no probabilmente sarebbe morto chissà per i vari motivi che la nostra parabola biologica ci fa mettere sempre in conto va bene ma forse non parlaremo di lui perché è proprio questo sigillo che lo consegna come dicevo alla nostra memoria inglesiale il suo martirio è il punto di discoglianità rispetto a una vita ordinaria a una vita come quella negli altri ed è perciò il motivo per cui bisogna ricordarlo la sua morte se è davvero martirio è un evento che illumina da parte di Dio la sua vita di cristiano e la sua missione di prete appare e questo suo martirio una luce che imprime e lascia trasparire colori che altrimenti non sarebbero più emersi dalla sua storia personale dire come qualcuno ha detto negli anni scorsi che la morte martiriale del panno con il brancaccio non ha peso specifico nell'insieme della sua vicenda equivale a dire che la croce del rocota non specifica la missione di Cristo Gesù sarebbe stato lo stesso parlare per noi oggi ricordare noi tutti Cristo Gesù se non fosse molto in croce tuttavia se è vero che Don Bullisi muore a brancaccio è anche vero che Don Bullisi non cresce a brancaccio questa è la continuità che voglio rincangere Don Bullisi ha maturato il suo profilo di testimone di Cristo già prima di arrivare a brancaccio e già quando è marro pagodrato e poi incaricato della pastorale vocazionale della diodisi di Palermo ho visto qui nei pannelli alcuni iscritti suoi semplici olograti con la sua stessa gradia appunti su pizzi di carta che risaltono a quel suo servizio per il centro dotazionale che ci sarà di Palermo già quando faceva questo tipo di servizio ministeriale questo tipo di servizio ad ammunità già allora egli capisce che il suo fare in breve non può prescindere dal suo essere prese fare ma soprattutto essere in quegli anni già egli non semplicemente svolge secondo le varie forme pastorali che mi vengono come dire comandate che mi vengono affidate il suo ministero soggetto ma piuttosto di terrarietato del mistero di Dio che comincia a guardare e a vedere con gli occhi di Dio il mondo la chiesa i giovani della sua diogesi la gente della sua parola nella scena di queste due premesse possiamo dunque incontrare il senso del martirio di Don Puglisi registrandolo lungo un rinare di passaggio dicevo tra i due concili il Vaticano I che rimonta al 1870 e il Vaticano II che invece è dei primi anni Sessanta si conclude nel 1965 perché chiamano in causa questi due concili perché essi sono il simbolo di diretti di visione della Chiesa una societaria e l'altra invece comunale il Vaticano II una visione di Chiesa societaria la Chiesa è una società vera e propria anzi la società più bella e più perfetta che ci possa essere tra gli uomini e come tale è strutturata come tale è organizzata diretti gerarchicamente cioè ordinatamente c'è chi ha certe responsabilità e quindi deve stare a monte e c'è chi invece deve collaborare e quindi deve stare appresso e c'è poi chi deve fruire del loro impegno pastorale questa era la visione della Chiesa come società vera perfetta con il Vaticano II si afferma una nuova comprensione della Chiesa stessa piuttosto comunale la Chiesa è un mistero di comunione la Chiesa scatolisce dal seno di Dio stesso che è l'agape trinitaria che è amore tra il padre e il figlio e lo Spirito Santo è come la traccia di quell'amore che Dio stesso è in sé per sé nella comunione tra il padre e il figlio e lo Spirito Santo e perciò la Chiesa stessa vive con questo imprinting fondamentale vive di questo DNA fondamentale che è l'amore che è la gare trinitaria e vive di conseguenza vive dire in termini più circolari in termini più reciproci più vicendieboli Don Pino è un prete che si collunga in mezzo al cammino che va dalla Chiesa societaria alla Chiesa comunale difatti viene ordinato presbettino nel 1960 alla vigilia del Padre Dio II e si forma in un seminario di una diocesi quella di Palermo che è anche un po' che è regta dal cardinale a una personalità importante ma con un certo profondo vive cioè a procedia tra queste due prospettive e a procedia quella societaria di cui per esempio amore il cardinale Ruffini è un importante rappresentante è quella comunale vedremo che lo stesso Ruffini è quello che insegnerà il mestiere della missione della comunione al giorno di presbitero Don Pino vedremo anacratici più importanti per poi fare come tre sottolineature o tre summante della vita di Don Pino nasce a cartaccio nel 1937 nel 1953 entra in seminario a Palermo sono gli anni come dicevo dell'episcopato del cardinale Ruffini il quale sta rinnovando effettivamente la pastorale parolicale in città conferendole un tratto sociale che prima non aveva non è un caso che i due progetti pastorali cui Ruffini teneva maggiormente il villaggio dell'accoglienza così verrà denominato e poi ancora il villaggio cardinale Ruffini che raccorsero centinaia di famiglie senza tetto all'indomani della seconda guerra mondiale questi due progetti pastorali del cardinale Ruffini consistevano in parolite affiancate da un centro sociale era un comodo di essere missionari nella città che si ingrandiva sempre più e che tentava di risolgere dalle magie rilasciate dalla guerra lo stesso cardinale Ruffini fondò in quel giro di anni le cosiddette assistenti sociali missionari che avrebbero interpretato l'esperienza cristiana non solo come culto ma anche forse cultura il giovane sembrista assolte questa tensione missionaria rivolta potremmo dire con una espressione che usavano i missionari del 750 qui in Sicilia rivolta alle Indie di Guadalupe i missionari da 700 nel primo 800 invece di andare in Cina o di andare in India o di andare in America Latina a volte preferivano fermarsi nel meridione d'Italia in Sicilia soprattutto perché erano come l'Avria la Sicilia era come le Indie di Guadalupe cioè aveva grande bisogno di servizio pastorale di missione benissimo il giovane seminarista Pino assolte questa attenzione missionaria e assinita il modello presbiterale proposto da il prete deve essere libero da interessi personali e familiari deve essere libero da tornaconti economici inattaccabile sul piano murale attento verso i poveri sensibile verso il valore della pietà popolare ora non è stata promulgata dal concilio la sanno sanno un concilio sul valore sulla bellezza e sull'importanza principale della liturgia infine il prete deve essere sempre obbedente al ministro questo insegnava nel seminario a chi si preparava a diventare presbitero Don Pino Puglisi assoppe questo insegnamento assimila questo ideale si cerca di rifarsi di configurarsi a questo modello e gli viene ordinato presbitero dicevo già nel 1960 e vive i suoi primissimi anni di mistero praticando il modello e l'ideale di rete appreso in seminario soprattutto vivendo l'attenzione dei modelli assente da noi nel quartiere scaricatore ancora derogato dalle botte della seconda guerra mondiale il fatto di essere mandato parrotti in periferie senti di peffie potremmo dire con una espressione di papà francesco oltre molto attuale quasi di moda che se in una certa maniera si può definire il mistero parrocchale parrocchiale san giovanni delle cose che è una parrocchia ormai quasi sul confine di gran calcio poi il paese di godrano a 30 km da palermo il fatto di ricevere sempre questa consegna missionaria lo abitua appunto allo scritto missionario vi conferisce cioè un abitus missionario vi infonde un abitudo missionario abitus in latino abitudo abitudi in latino è una parola che significa innanzitutto relazione l'abitudo e la relazione hai abitudi con Don Giuseppe vuol dire hai modo di frequentarlo sei in confidenza con lui stai in rapporto con lui in relazione con lui o abitudi di Don Giuseppe per questo in rapporto stretto con lui bene Don Piro si esercita in questa relazione in questa attitudine di relazione una sfintata propensione a dialogare con tutti anche con chi da tempo è rimasto senza voce in quegli anni di Don Piro entra in contatto con padre Placido di Vitti con Francescano di Londra che nel 1946 a Palermo aveva fondato un movimento laimitale la crocetta del Vangelo oggi ancora oggi si stesse ridenominata presenza del Vangelo e che nei primi anni 50 aveva creato anche un istituto secolare femminile le missionarie del Vangelo qui aderirà una personalità spirituale di grande levatura di grande struttura come per esempio di Acervino che peraltro sarà anche con la luce di Don Piro Puglisi tra questi bambini ho visto una preghiera per le vocazioni di Don Piro Puglisi o meglio il suo consultivo la sua sintesi alla fine di un convento a comprenderlo sulle vocazioni ed è interessante vedere con regni di tutti a chiedere al Signore il dono della vocazione a cominciare dalla vocazione allo stare bene insieme la vocazione della famiglia poi mette subito la vocazione delle anime consacrate nel mondo le spose degli del Signore del mondo sono avuto queste sodali dell'istituto secolare dove diventa amico e a volte anche il direttore spirituale che poi dei frenti dei cattepisti e così via le missionari del Vangelo anche Don Pino simpatizza per questo movimento e per questo istituto secolare ed è frequent ai genacoli sia come auditore sia come allenatore e predicatore quando il cardinale Pappalardo detterà l'epitampio da incidere sulla pietra tombale di Don Pino non a caso lo definirà missionario del Vangelo perché missionario del Vangelo solo perché era un parroco non ci sono parroco no perché era membro di quel movimento fondato da padre Placido l'accoggiata del Vangelo la presenza del Vangelo il carisma principale principale del movimento religiano è l'ascolto la meditazione e lo studio della parola fruttura in quegli anni indicava a Palermo tante personalità spirituali e tanti studiosi di Lugia per esempio cito soltanto quelli in cui i nomi si trovavano tanto nei quaderni di Don Pino Pintisi Don Timo Barsotti Giuseppe Lazzano oppure Don Rinaldo Fabris che è un più che è molto contattore a lo scorso sono tutti persone che Don Rivi Padri invitava per la formazione dell'educazione alla fede dei soldati del suo movimento qui a Palermo e con cui Don Pino ha coraggio e per ragazze di incontrarsi e di confrontarsi e perciò di diventare quello che sarebbe stato cioè il martine di mancanza la parola di Dio è per inizio risposta alle domande di senso suscitate dal conflitto mondiale domande che tutti si portano a quell'epoca anche i raggi si pensa agli anni difficili dell'immediato secondo dopoguerra nell'Europa materialmente distrutta e moralmente prostrata si pensa al travaglio socio-economico e soprattutto culturale che le nazioni dovrebbero affrontare per rialzarsi dall'immagine si pensa inoltre al frullitino operoso e speranzoso di quando ora con quasi anonima distrezione ora invece con incontenibile entusiasmo lavoravano per dare un volto uomo anche alla chiesa per rinnovare la vita liturgica per riformare la prassima solare per ripensare nella biologia e tutto quel lavorino che si porta alla vigilia del Vaticano II Don Pino Don Pino che diventa a preghia prima del Vaticano II in realtà respira tutto questo nell'aria e assimila tutto questo anche frequentando Padre e quindi avviene poi l'evento dello spirito così l'ha chiesto Don Giuseppe Padre Giuseppe Dossetti il concilio Vaticano II con cui culminata il processo di rinnovamento che è anche un tempo spirituale pensate per esempio a che cosa significa l'insegnamento del magistero conciliare per la vita spirituale dei battezzati a partire da quella vocazione universale alla santità che tutti i battezzati in quanto pare devono sapere di avere ricevuto da parte del Signore Lumengesi numero 40 Lumengesi numero 50 tutti siamo chiamati alla santità ugualmente oppure rinnovamento liturgico il Santo Santo di concilio oppure ancora rinnovamento biblico lo studio della parola di Dio e anche l'alimentarsi alla parola di Dio e il rinnovamento teologico sono gli anni in cui sorgono nuove riviste teologiche che magari chi ha frequentato gli studi teologici conosce ma che in realtà hanno fatto la storia del rinnovamento anche inglesiale nel dopo concilio due decimito una si intitola comunio appunto e l'altra si intitola concilio e sono gli anni in cui un teologo come Balthasar che era un teologo svizzero di lingua dell'esca scriveva un libricino che veniva tradotto e la prima sua opera tradotta in Italia da un gesù del Napoli Alfredo Marazzini con il titolo significativo abbattere i bastoni la chiesa del concilio vuole abbattere i bastoni vuole uscire fuori non vuole più sentirsi assediata come una cittadella medievale vuole mettersi il cammino attraverso il mondo e per questo chiede lo stesso Don Pino in un consiglio pastorale che si tiene a Codrano scrive queste cose che sono rimaste annotate occorre passare da una pastorale di difesa a una pastorale missionaria sono parole di non più negli anni si dirige il centro vocazionale di Ocesano e poi anche il seminario minore nelle sue canti in quel periodo si legge con frequenza che la Chiesa è sacramento anche questa è una bellissima parola che Don Pino assimila dall'insegnamento magisteriale dal magistero del del concilio Vaticano II quando il concilio Vaticano II dice che la Chiesa è sacramento dice una cosa importantissima dice che la Chiesa non deve più progiolarsi nelle sentie della propria autoreferenzialità e della propria autosufficienza la Chiesa non è fatta per se stessa è fatta per qualcun altro la Chiesa è come un segno che rimanda a un altro a Cristo Gesù che rimanda a un altro orizzonte l'orizzonte stesso di Dio non concentra su di sé non catalizza verso di sé l'attenzione del mondo della gente delle persone ma conduce tutti oltre di sé all'incontro con il Signore Don Pino insiste su questo preco dice spesso che la Chiesa è sacramento ma nei suoi appunti si legge anche che la Chiesa è il corpo stesso di Cristo e questo in continuità con una ecclesiologia precedente al Vaticano II il Vaticano II dice insiste sulla ecclesiologia di comunione ma prima c'era stata una ecclesiologia anche in tipo sociale comunitaria la ecclesiologia del corpo stesso di Cristo che è la Chiesa in senso mistico Don Pino e i suoi scritti frequenta tutti e due questi registri ma intempera personalmente sia il Magistero del Vaticano II sia l'insegnamento precedente per esempio intempera in senso iconologico la ecclesiologia del corpo mistico di Cristo portando i suoi giovani quando era animatore del centro conversionale di Occesano per i primi nel luogo di Morreale e facendo loro contemplare il Cristo quanto piatore che è iconografato nell'abice della maggiore della cattedrale di Morreale ce l'abbiamo tutti presente in mente è un grande mosaico fatto di tante essere diverse e Don Pino diceva ai suoi giovani noi siamo così la nostra comunione deve essere così siamo tutti tessere di un grande mondo che è proprio quello di Cristo Gesù per conto nostro non abbiamo alcun valore rischiamo di perderci di risultare superfue o inutili ma tutte combattate insieme allora è già malvoto il mondo di Cristo annuncia malvoto il mondo di Cristo nel settembre del 1990 Don Pino è nominato parlovo di Santa Itana a Prancaccio va a prendere il posto di un suo contratetto che in quegli anni si era impegnato in maniera particolare sul versante diciamo sociale e persino politico la Cuvia di Palermo questa cosa preferisce orientarla diversamente ed è per questo che alla fine quelli che parlo di un'angangio si ritira dalla patrottia e al posto suo arriva proprio Don Pio Puglisi Don Puglisi che è il cartellale Fattalato conosce come un prete obbediente e che è originale di quel partito viene appunto inviato a sudentare al Paglio Puglisi e in città a Palermo si sparge l'agonia negativa su Puglisi non humanizzatore inviato a famigliare tutti e l'anno in realtà Don Pino va a Brancaccio ancora una volta come missionario abituato più a pensare e a fare che non a protestare sui giornali o alla parte e di fatto di a Brancaccio trova una piccola chiesa senza voce con la campana di Prozzo lesionata ancora dai beni del terremoto del Puglisi ma neppure non tra di un presidio sanitario né di una scuola media né di un ufficio di polizia né di un cistro sociale semmai trova i mafiosi del quartiere i quali mantengono in alto retto il loro antico predominio del territorio volendosi disturbati in un'antimosfera da una malattosa in un clima possiamo dire in un brodo altamente criminoso da una lettera circolare ai suoi parlo schiavi firmata da Donchino Puglisi quasi subito dopo il suo animo a Brancaccio apprendiamo queste informazioni nel quartiere il loro parlo controva giovani disoccupati che sono parole sue senza valori vergi soprattutto disorientati inoltre bambini non sono sempre parole sue abbandonati a se stessi prega della strada dove in parco degli anza e violenza scinti fulti mini prostituzione non sono io che si riuso sto citando le parole di Donchino a Brancaccio Puglisi trova anche una pietà popolare troppo fraintesa strumentalizzata direi come orizzonte simbolico del potere matrioso gestita in statità popolare nel quartiere dai post locali due risposte immediate concrete fattive da il nuovo parlo il centro padre nostro inaugurato la presenza del cardinale Pappalardo nel gennaio del 93 e il comitato di quartiere così chiamato alternativo invece al gruppo di di devoti che fino ad allora aveva organizzato la festa di San Gaetano un gruppo però infiltrato da presenze molto affinque nel 1992 Don Pillo comincia anche a progettare un centro parlochiale moderno composto da strutture sociali oltre che pastorali nello stile dei viaggi missionari realizzati dal cardinale L'intento è di risultare competitivi rispetto alle offerte del carma di uso perciò Don Pillo si muove risolutamente per l'acquisto di un terreno attiva la progettazione e mette in moto l'interburocratico per il declinato nei difficili municipali o provinciali di competenza secondo me quella è la sua vera via Cucis prima dell'incontro con il signore Don Pillo del suo corpo perché la soglia di casa sua a tracciaccio ho appreso leggendo un'intervista rilasciata qualche mese fa da Fratelli Bianchio Conte che a Palermo anima la missione speranza e carità che Fratelli Anjo conotte Don Pillo Pudisi proprio nella mattinata del giorno in cui fu alla fine ucciso a sera trascorsero la mattinata entrambi facendo anticamera quel 15 settembre 1993 facendo anticamera tutti e dunque insieme nell'ufficio nel gabinetto del sindaco Leolito Orlando Don Pillo gli chiedeva aiuto per creare una scuola di guardate che cosa a Brancaccio mentre Fratelli Bianchio gli chiedeva qualche locale per i suoi bamboni è una sorta anche non lo so di stampetta almeno così gli stessi la intendi Fratelli Bianchi non l'aveva mai prima conosciuto non lo vedrà anche lui perché la sera di quel giorno Don Pillo per concludere tre sottolineature riguardo ai criteri che possono permetterci di decitare l'esperienza partidiale di Don Pillo un primo criterio attenzione uso tre espressioni che traduco sul va bene il criterio del sub evangeli luce nei documenti del concilio questa espressione latina significa sotto la luce del Vangelo alta luce del Vangelo questo è un primo criterio il criterio di stare alta luce del Vangelo Don Pillo imposto il suo servizio manogale sempre a partire dal discernimento che è operazione non sociologica ma spirituale e pastorale e il discernimento una cosa che si fa in causa della parola di Dio assunta come chiave di lettura della situazione in cui si vive questo era il metodo che aveva preso alla scuola di Padre di Dio all'accrociata del Vangelo al criterio del discernimento Don Pillo accompagna la preghiera anch'essa tanta con la parola di Dio come leggiamo nei suoi amici cito una espressione di Don Pillo darci il nostro pane quotidiano che significa intanto chiediamo a Dio Padre che ci dia il pane nel linguaggio biblico significa il sostentamento quotidiano tutto ciò che è indispensabile alla nostra vita di ogni giorno ma diciamo pane anche nel senso di una esigenza altra sono parole di Oro quindi invochiamo il pane della parola non solo il pane fatto di farina di mollica il pane della parola dacci il pane della parola in questa prospettiva Don Pillo invitava i suoi barocchiali a proporire dal discernimento alla conversione come racconta ai suoi giovani è un racconto fatto da Don Pillo ai suoi giovani che viene riprodotto ancora una volta in uno di questi bandelli poco prima di iniziare questo nostro incontro mi sono messo a passeggiare e ho detto tutti questi bandelli c'è quello che ora sto dicendo racconta di una signora un dono una signora mi dice non posso venire al cenario se continuo ad ascoltare la parola di Dio la coscienza mi dice che devo perdonare che ha ucciso mio figlio e io non ho la forza di farlo vedete la mia il discernimento è lo stimolo alla professione è un pubblico per quella signora insopportare Don Pino le risponde non si preoccupi lei continua a venire con fiducia il signore le suggerirà al momento il modo ovviamente per superare questa sua rilutanza a dare perdone capito infatti è sempre Don Pino che racconta che in qualche tempo dopo la madre dell'assassino scivolò davanti la casa della signora la quale uscì e la sofforse accogliendola in casa sua e così la perdono e la facciamo dal discernimento alla conversione sotto la luce del Vangelo alla luce del Vangelo non possono capitare queste cose se non ci ripetiamo alla luce del Vangelo se non facciamo i conti con la parola del Signore se non la ascoltiamo e non la accogliamo nella nostra vita non possono capitare queste cose né nell'esperienza di un martire come Don Pino né nella vicenda di una mamma di famiglia a cui hanno deciso un figlio come la signora di cui lui stesso raccontava nei suoi giorni il secondo criterio dal di dentro del mondo lo dico direttamente in italiano dal di dentro del mondo che è ormai il posto di Dio stesso che cos'è il di dentro del mondo è il posto in cui Dio si è talato in Cristo Gesù in cui si è reso casente in cui si è investato in cui è venuto tramite Cristo Gesù per le strade nelle periferie a contatto con la gente faccia a faccia con le persone a testa alta per dirla con il titolo di una biografia di Don Pino pubblicata dalla giornalista Bianca Stagna Puntanelli nel 2003 ma che sta? questo vuol dire per Don Pino Puglisi essere a Brancaccio e vivere il suo servizio ecclesiale da lì dentro del mondo in mezzo alla gente in mezzo alle loro fatiche questo stare in seno al mondo è per Don Pino concreta esperienza credente come leggiamo ancora nella trasmissione di una sua patichezza sono parole sue la speranza per San Giovanni sta convintando il Vangelo di Giovanni la speranza per San Giovanni non va apposta al di là del mondo anche se lo supera ma è nel mondo come occasione di progresso come possibilità di miglioramento del mondo ed è un comune e comunitario impegno missionario che la parrocchia deve allungere superando ogni sorta di clericalismo e se fai lasciandosi a vincere da uno spirito dice lui stesso Samaritan queste sono le sue parole chiesa di frontiera dobbiamo imparare ad essere le periferie chiese in uscita di Papa Francesco e quello lo dice molto prima ma perché è così anche il vergogno lo diceva molto prima quando era fede poi il messo consigliare lì a Polisani chiesa di frontiera pronta a farsi carico dell'uomo che vive che soffre che muore decisa sempre essere dalla parte dell'uomo sul cui molto brina l'immagine del creatore sempre parole sue nella parrocchia tutta la pastorale dovrebbe essere attraversata dalla linea vocazionale missionaria giacché tutti siamo chiamati e tutti siamo mandati terzo e ultimo video la missione e la comunione la missione è con l'accento la comunione missione e comunione la parrocchia missionaria è secondo l'uomo chiesi espressione di una chiesa non autosufficiente non autoreferenziale finalmente è capace di mettersi in contatto con gli altri capace di stare in relazione come gli spiega con una serie di coci di coci che si illuminano ma anche si possiamo dire desacralizzano la vicenda sono le coci verbali che lui annosa in uno dei suoi vizi così si la chiesa è un'assemblea in persone può essere edificata solo pregando e studiando la prima coppia pregando e studiando non solo pregando ma anche studiando cioè pensando sul segreto circa i problemi le questioni della vita di ogni trono ma non solo facendo questo anche pregando guardate questa è una intenzione che attraversa tutta la storia della spiritualità cristiana e che è rimonta alle icone evangeliche di Maria di Nazareth e di Giuseppe di Nazareth dice l'Evangelista Matteo che Giuseppe ha il sogno che gli spiega come strano le cose dell'orientare nelle scelte delle verbale mentre stava pensando a quelle cose e la vulgata latina traduce questa espressione usando una voce verbale che è quella poi nell'epoca moderna dei grandi filosofi per esempio di Cartesio cogitare Cartesio è il filosofo che ha detto cogito ergo somma va bene e lì il evangelista dice cogitando era mentre stava pensando seriamente impegnandosi con tutta la propria intelligenza a quelle cose che stanno dedicando e con che gli appagni sono violato che gli disse la preghiera e il pensiero seriamente non è vigente stanno sempre intrecciate insieme secondo la chiesa è una serie di persone che può essere dedicata solo celebrando e discutendo celebrando ma anche discutendo celebrato la chiesa ma anche discutendo dentro il salone parrocchiale sui problemi di ogni giorno celebrando e discutendo e ancora amando e lavorando amando sì ma anche faticando ma non solo faticando il più possibile con tutta la buona volontà di questo mondo anche e soprattutto ma amando la comunione è divanti esercizio di dialogo anzi di logopeia si tratta di imparare ad ascoltare per poter corrispondere quando un bambino è affetto di ha fastidio e ha non riesce a parlare molto probabilmente perché eppure ha fatto una solidà non riesce a sentire bene quello che i genitori gli dicono e quindi non apprende la maniera in cui si parla e non riesce a parlare assolutamente come i loro stessi ecco allora che bisogna fare un esercizio di logopeia di educazione alla parola sapere ascoltare per poter corrispondere apprendere i linguaggi anche quelli gergati i termini convenzionali per poter tradurre dentro un nuovo senso di evangelico leggiamo ancora i tatuti di doppio un prete deve saper dialogare su quattro fronti con la realtà con gli altri con se stesso e con l'uno deve saper ascoltare e saper ascoltare significa andare oltre le parole per entrare nel mondo dell'altro ma stare nel mondo significa anche progettare insieme e per domino questa è l'esperienza del volo tagliato innescata a prancarci con i suoi giovani il volontaniato secondo lui è segno evangelico ancora una volta una sua citazione con la quale non può essere considerato il volontaniato e non può essere vissuto come una realtà semplicemente sociale e sociologica che subisca alle inanimpiezze della pubblica amministrazione ma deve essere piuttosto considerato è vissuto come un segno evangelico sostenuto dalle cristiane dall'unità dal satelicio dalla carità è un'esperienza fatica come Don Pino dice il 18 febbraio del 1993 ormai qualche mese prima di essere ucciso ha il suo giovane a prancaggio al centro padre nostro l'azione dei volontani e delle sue del centro padre nostro deve essere come un segno per cercare di muovere tutto la vita per cercare di dare un modo di comportamento agli altri per spingere le autorità a fare il loro dovere affinché tutti a poco a poco si sentano coi tutti noi per primi vogliamo rimboccarci le mani per dimostrare che si può fare qualcosa e se ognuno di noi fa qualcosa allora si può fare e con queste parole che sono diventate ormai famosissime che tutti noi ricordiamo e conosciamo termino questa riflessione direi con un auspicio con un augurio alla vostra comunità padronecchiale direi quasi a tutta la vostra comunità paesana proprio quella di vivere questo tipo di diciamo impegno ingaggio con il Signore che induce a essere tattini con crei a essere sedi di novitare della vita nostra e degli altri coloro con i quali noi condividiamo la nostra giornata condividiamo la nostra storia se davvero come insegnava Domino Polizio ognuno di noi fa qualcosa anche poco ma qualcosa di completo allora insieme si può fare tutto e questo deve essere l'ideale che in più realisticamente deve essere il progetto il programma di una comunità soprattutto di una comunità pastorale di una comunità parrocchia se c'è qualcuno che vuole fare un intervento o qualche domanda ho una un'altra io penso che ormai siamo diventati sempre più familiari con la figura di un'opera di un'opera di un'opera sia sia per gli incontri a cui dedicati qui negli anni scorso mi pare di aver capito sia per quelli che già avete fatto anche quest'anno in questo mese di maggio e quindi ormai l'incontro il confronto con lui deve cominciare a diventare personalmente ognuno di noi deve incontrarsi con lui personalmente più che sentirne parlare addirittura a parlarne e tentare di parlare con lui parlare con lui con la sua testimonianza con i suoi scritti parlare con chi non c'è più si vivi innanzitutto ascoltare è lo stesso atteggiamento che viviamo quando parliamo col Signore quando parliamo col Signore innanzitutto ascoltiamo il Signore ci mettiamo davanti alla sua parola ci lasciamo investire e ci mettiamo a meritare sulla sua stessa parola più che sulle nostre parole forse lo facciamo magari ad alta voce con le nostre parole ma questo insomma è la sua parola questo accade anche quando ci confrontiamo che so io con un autore della vita oppure quando ci confrontiamo con una personalità spirituale di altissimo di me come dottino e questo è di questo che dobbiamo personalizzare ormai i segni di tutti i nostri accorti e i nostri mettendoci in ascolto della sua testimonianza della sua vicenda anche se rispogliamo dei suoi sovrini forse nel caso di Don Milo con Viserici c'è data la grazia persino di metterci in ascolto della sua viva perché esistono le registrazioni delle sue delle sue catechesi delle sue e delle sue opere e quindi vi ringrazio a tutti che si può fare con quelli che si insieme ad ascoltare e poi magari discutere insieme con quello che riguarda quello che di volta in volta di lui e da chi si va a ascoltare grazie E in mente che in mente, intanto che siamo nell'anno giubilare della misericordia, un episodio della vicenda di Obrino, nella sua magoglia di Sant'Eltà, a Brancaccia, una sua omegia che fu molto corto nel titolo di Tom Russo, anche da lui in quell'occasione, e che fu anche fra il chiesa, dai mafiosi del quartiere, che certamente non andavano ad ascoltare il chiesa, non andavano a mezzo, ma che si basavano su un resofondo che di volte e volte da qualche amico andava a rendere loro, e si avevano detto che in quell'occasione che un bambino li avesse sfidati, perché lui aveva detto, vi invito a venire, partiamo, confrontiamoci, diciamoci le cose a quattro occhi, per loro sembra una sfida, perché nella loro sintassi comportamentali, ma ancora che intellettuale, questo significava parlare a patrochi, significava entrare in Bibbia, fare la guerra, ispirarsi a questo. Per Tom Russo invece era un atto di dialogo, una scelta di dialogo, Francia, Oresco, e nella stessa situazione lui aveva detto, c'è sempre tempo per tutti noi. C'è sempre tempo per tornare a ricerco, anche per voi. Ovviamente alle orecchie dei matiosi di Tancaccio, questo che poteva risuonare come un invito ad arrendersi. E Don Pino fosse questo, l'invitava a farlo, arrendersi, ma non ci ha fatto a lui, piuttosto al Signore, una buona volta. E alla dignità dell'unità, che si è finalmente lì, a Brancaccio. E quello che voglio sottolineare è questa possibilità, l'unità, che Don Pino annunciava, non dava, non concedeva, ma annunciava ai matiosi di Tancaccio. C'è sempre possibilità. E questo è un tratto tipico, la misericordia del Signore, dare sempre tempo, dare sempre possibilità. Emerge tra le parabole del maestro di Nazareth, continuamente, la parabola del sento ospedale, che prima si appella per aver condonato il proprio debito al suo padrone e natore di lavoro, chiedendogli di essere maniati, di essere assoluto paziente, di avere pazienza. E poi, invece, lui stesso non ne ha con il suo collega, con il suo compagno. E il suo peccato non è avere un debito che non riesce a saldare il nostro padrone, ma piuttosto non riuscire a avere pazienza con il suo peccato. E la misericordia è proprio questione di pazienza, che non significa, però, questione di acquiescenza. Nella stessa parola, gli altri servettoni provano scattolo, si offendono per il comportamento ingiusto di quel servo spedato, e fanno dal padrone e vanno a chiedere giustizia al padrone. La misericordia è questo imprese di pazienza, di pietà, di compassione, ma anche di scattolo, di reazione contro il male. E' un mistero, ma di seguito. E credo che Lottino lo abbia interpretato, oggi o negli anni in cui fu fulmato con lì a brancaccio, quel prono, dicevo prima, di tipo criminoso. Senza dimenticare lo stesso tonpino che il peccato negli uomini, non solo negli uomini, ma anche il nostro, è sempre un grande abbagno, è sempre un errore. Il peccato, noi per andare a confessarci, forse nella catechese, i ragazzi, lo si insegna ancora, ci sono delle condizioni perché ci sia il peccato e per capirlo nella nostra vita, poterlo poi confessare bene, per esempio, il sacramento della penitezza e della rivoluzione. la lucida pertenza, il deliberato buon senso, l'atto normale, tutte queste cose, lo vedete? Lo vedete? E tutto questo fa nel peccato stesso una sorta di reato. Non vanno a solidare più a una volta, che non a uno sbaglio. E invece nella parabola di Gesù il peccato è sempre presentato come uno sbaglio madonnale. Lo stesso Gesù in croce dice perdonano perché non sanno quello che fanno. Amattia è una parola tecnica che nel Vangeli viene usata per dire peccato. Significa sbaglio. Il cacciatore a quell'epoca andava a caccia, puntava la sua preda con il suo arco, però sbagliava. Sbagliava contamente, no? Evidentemente non volevano perché il suo interesse era colpire la preda e portarsela a casa del pregiato. Sbagliava o non volendo. Questo è il peccato. Per Don Pino che vada in a questo intercambio, se il peccato è questo sbaglio madonnale, ma c'è sempre tempo per capire di avere sbagliato e per recuperare. Se il peccato non è un reato, per quello di cui bisogna rendere conto dei tribunali dello Stato davanti ai giudici, e con i soldi, ma è qualcos'altro, uno non sapere quello che si fa, come nella parabola di un figlio pronto. E poi dice, quello si disiorenta, vende la strada di casa, se ne va, vido un abbaglio, capisce che essere figlio significa una cosa, invece significa tutta altra cosa. Tant'è che quando ritorna, addirittura fraintende ancora di più ed è disposto persino a non essere più figlio, ma piuttosto a essere un salaiato, a essere un servitore. E il padre mi fa capire che no, essere figlio significa piuttosto essere accolto, essere abbracciato. Perché il peccato del figlio è stato quello di essersi allontanato e di averle non compreso il proprio stato di fiducia. Se uno si allontana perché non sa di essere figlio, non ha da essere perdonato. E non ha più da espiare il peccato. Ha solo da ritornare a casa e da essere accolto. Per questo si deve fare testa che si deve giurire in Gesù. Don Pino, queste cose, secondo me, le predicava per andare. Questa predica è una delle più piene di tensione profetica tra le osiglie che ci sono rimaste di Don Pino Puglisi. Don Pino dico, in queste scoplie, questo diceva alla sua gente e perciò anche ai propri osigli di Brancaccio, perché comunque loro è un inconsiderato per la sua società. annunciamo i maggiori grandi signori che siccome siamo attivati a pensare il peccato diversamente, a dover conteggiare il peccato della nostra vita diversamente, con l'espiazione, con l'assunzione e così via, e in qualora noi finiamo per non comprendere, come loro finirono, per non decodificare concretamente il messaggio che Don Pino rivolgisce. ringraziamo Don Massimo per averci aiutato a mettere e anche a vedere meglio questo dono che è della nostra Chiesa, di tutta la Chiesa, della Chiesa universale, ma in maniera particolare della nostra Chiesa palerentale. e anche questo potrebbe essere un peccato, cioè non capire la valenza di questo dono, del dono che il Signore ha fatto alla Chiesa palerentana e a noi del martirio di Monti Visi. Grazie per la professione, per la sua prima venuta qui a Caccavo, sperando che ce le possano restare a tutti i dieci e a tutti i ragazzi. Grazie a tutti, l'appuntamento con tutti i ragazzi è sabato per la messa e vi colgarò l'impegno della prossima settimana. Bene? Facciamo una preghiera insieme per tutti i ragazzi. Preghiamo insieme come il Signore di Cia di Ciascuno. Il Padre nostro è stessa in Cielo e sia santo il capo il dono nostro. E anche il Dio è stato fatto al tuo donato come il Cielo e il Cielo. Dacci oggi il nostro pane e il Padre che ripeti a noi i nostri venti come i miei con i nostri Pettori e non ci troviamo in tentazione, ma liberaci dalla vita. Il Signore sia fuori dal tuo Spirito. Vi benedica Dio, Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Asciugiamo in pace e facciamo la sua vita.